Venerdì 3 novembre a Concesio, il Vescovo Pierantonio Tremolada ha visitato i luoghi montiniani, dalla Casa Natale alla Collezione Paolo VI, quindi nella Chiesa di Sant'Antonino ha celebrato la Santa Messa. Eccellenza, benvenissima, caro Vescovo Pierantonio, e con grande gioia nella nostra comunità tutta, il Concesio dà voglia questa sera. Stiamo orati davvero tra noi, in una delle sue prime visite, per la Diocese, e sappiamo che il nostro merito è legato al nostro grande concittadino in teatro Paolo Vescovo. Siamo orgogliosi di questo, ma nello stesso tempo siamo carni di responsabilità e confronti dei fratelli per i quali siamo chiamati a dare, come direbbe il nostro teatro, una testimonianza di fede fatta di gesti e non di parole. Siamo anche certi che la sua parola possa far aiutarci a vedere meglio questa cittadinanza condivisa con Paolo Montini. Per ringraziarmi voglio interpretare i sentimenti di riconoscenza, anche da parte dell'Amministrazione Comunale, di tutte le autorità civili e gruppi di volontariato che si impegnano nella costruzione di una nuova cittadinità dell'amore. Siamo certi che la nostra preghiera, questa sera, porterà a incontrare di più quel Cristo che il nostro beato Paolo VI ha tanto amato e ha genunciato con passione per tutta la sua esistenza. Grazie a Cittadinanza di questa sua presenza, per noi un segno di grande stima verso il beato Paolo VI che spieghiamo adesso. Una visita sentita per il pastore Bresciano che ha sempre espresso una grande stima nei confronti di Montini, quale esempio di fede. Ci tenevo a comunicare a voi e a tutti, perché in questo momento a me sta a cuore. Sono davvero felice di celebrare la nostra Eucaristica mia conoscenza, il Paese Natale di Marossese, che vi parlo con voi, e che avete questa fortuna di essere i compagni suoi o comunque di abitare in quel Paese dove lui è nato. Siete anche, ti sembra, di poter vivere gli eredi e i custodi privilegiati della sua memoria per questo punto di vista. L'Istituto Paolo VI, che ho potuto visitare oggi, è l'espressione più tangibile e più prestigiosa del desiderio vostro e dell'intera Diocese di Brescia di conservare prima questo ricordo. Sì dal primo momento del mio presso di Diocese, io ho desiderato venire qui, compiere questa visita come segno di affetto nei confronti vostri di questa mamma di Papa Macchiavole, e anche di generazione nei confronti del grande contentice Bresciaio, che qui ha aperto gli occhi all'unità. Durante l'Omelia il Vescovo ha sottolineato quattro caratteristiche di Papa Montini, la fede in Dio, l'umiltà, l'amore per la Chiesa, il rapporto con la modernità. Al termine ha espresso l'auspicio che la canonizzazione arrivi il prima possibile.